Promuovere il territorio, far crescere il territorio, in buona sostanza fare marketing territoriale è possibile attraverso vari strumenti e certamente un ricco cartellone estivo, un programma con soggetti di fama nazionale qualificati non possono non far crescere appunto una realtà cittadina come quella di Palagiano proprio come dire immergendola in una dimensione nazionale dal momento che si parla di ospiti, appunto gli ospiti previsti nel cartellone sono di caratura nazionale. Sindaco Lasigna, beh quest'anno Palagiano farà le cose in grande, ho avuto modo un po' di leggere dei nomi e sono nomi di tutto rilievo. Parliamo intanto della importanza di questi eventi perché gli eventi, sì benvenga il momento della sagra, il momento del folklore, il momento della socialità e Dio sa di quanta socialità abbiamo bisogno dopo le restrizioni del covid, fermo restando ovviamente, ferme restando le prescrizioni comunque esistenti. Ma dico dare invece, dare anche una dimensione culturale è un valore aggiunto. Sì innanzitutto grazie per questa occasione d'incontro. Il cartellone estivo è sempre un'occasione importante per una comunità. Quest'anno lo era e lo è ancora di più perché abbiamo voluto proprio parlare dell'estate della ripartenza, delle ripartenze e non si poteva non ripartire immaginando anche delle opportunità di piazza. Dici bene, l'evento in sé può essere più o meno di pregio ma quello che conta è l'occasione che si dà alla comunità o a chi verrà a far visita alla comunità di Palagiano in occasione degli eventi. Abbiamo organizzato insieme alla consulta delle associazioni, insieme all'assessorato al marketing territoriale, all'assessorato all'associazionismo e alle partecipazioni, in particolare all'assessore Rollo e all'assessore Liverano. Abbiamo voluto organizzare un calendario di tutto rispetto, eventi che guardino innanzitutto alle realtà locali e quindi concerti, pièce teatrali, dibattiti, presentazioni di libri di autori del nostro territorio. Abbiamo già iniziato il 3 luglio con il calendario estivo ma soprattutto abbiamo voluto accogliere un evento di particolare importanza per Palagiano. Da qualche anno ormai collaboriamo con il Magna Grecia Awards che è una sorta di vetrina che ospita personaggi di lustro a livello nazionale. Avremo la presentatrice Perego, avremo il sottosegretario all'agricoltura Battistoni in una serata dedicata al tema agricoltura su Palagiano, avremo il giornalista Caprarica, avremo il giornalista Marco Frittella, il politico Crosetto, Brachino. Abbiamo dei nomi, la signora Annunzia Di Girolamo, dei nomi che potranno in qualche modo permettere a Palagiano di essere anche per una sola sera, per qualche sera crocevia di cultura, di dibattito politico, di approfondimento. Avremo il vice direttore giornalista e autore Angelo Mellone, ormai un ospite consueto dell'estate palagianese a presentare un suo romanzo e a darci l'opportunità di un confronto su temi importanti. Ecco, questo è un po' quello che si è voluto fare insieme poi alle serate dedicate al teatro comico con per esempio il cabarettista Dino Paradiso, con Stornaiolo e Solfrizzi, con lo spettacolo più Shakespeare per tutti. Ecco, abbiamo voluto creare un contenitore che desse innanzitutto a Palagiano l'orgoglio e il piacere di dire abbiamo una rassegna di livello, ma poi un'occasione per molti che vorranno venire sempre nel rispetto chiaramente delle norme anti-covid ancora in vigore, venire a vedere un po' la nostra comunità, a conoscere la nostra gente, a vivere la nostra piazza. Ecco, Palagiano che svolge una funzione di attenzione. E' un attrattore perché ovviamente certi personaggi di grido attrarranno varie persone, vari visitatori, quindi non solamente palagianesi, ci saranno ovviamente i palagianesi perché in casa loro sfrutteranno queste opportunità, ma tanta gente dalla provincia di Taranto e non solo potrà tranquillamente venire a Palagiano proprio perché attratta da queste personalità. In questo senso, come dicevo poc'anzi, la funzione di attrattore del suo comune. Sì, esattamente così. A me è capitato qualche giorno fa di essere ad una bellissima serata estiva a Polignano a mare, dove vi erano autori, cantanti, personaggi politici, rappresentanti delle istituzioni, che hanno dato vita ad un dibattito di un interesse, di un livello così alto che mi incuriosiva più guardare la gente che assisteva, perché evidentemente si percepiva proprio nell'area una sorta di empatia tra il personaggio e il pubblico. E' chiaramente una marea di gente che assisteva all'evento. Ora, è chiaro che non possiamo paragonarci, per ovvie ragioni, a eventi e a città come Polignano, però l'obiettivo è quello, cioè trasformare, ripeto, anche solo per una sera, una piazza di paese come luogo di attrazione. Poi le cose vengono, avvengono, accadono. D'altronde, chiedo scusa, è stornaiolo, è solfrizzi, parlando appunto di spettacolo, di comici, ma anche lo stesso Caprarica per quanto riguarda gli aspetti culturali. Cioè, veramente significa gravitare in un'orbita nazionale? Assolutamente sì. Se si discute di agricoltura e si può avere ad una poltrona che parla alla comunità di Palagiano, che è una comunità prevalentemente a vocazioni agricole, il sottosegretario di Stato dell'Agricoltura Battistoni, è chiaro che stai provando, stiamo provando ad elevare un po' il livello del confronto. Poi, per l'amor di Dio, non è certo il nome che può risolvere problemi magari atavici di una comunità, ma innanzitutto e intanto ci stiamo dando un'opportunità. Io ritengo sempre che la politica debba, o l'amministrazione, per parlare della politica locale, debba costruire delle opportunità. Poi, se queste vengono colte o no, se possono essere utili o no, lo vedremo, sarà il tempo a dirlo, innanzitutto stiamo creando delle opportunità e questo è il lavoro che noi dobbiamo fare per Palagiano. Sì, Daco, lei ha parlato di questo incontro con il sottosegretario all'Agricoltura e sappiamo bene la natura, quanto il comune di Palagiano, la realtà di Palagiano è legata al mondo agricolo. Beh, voi avete il mandarino che è, come dire, l'emblema di Palagiano. Come valorizzarlo? Come farlo diventare davvero un brand? Perché, mi creda, io amo viaggiare e molto, è noto tanti comuni che hanno delle ricchezze, delle peculiarità, delle specificità, ma Palagiano non è assolutamente inferiore a questi. E quindi il mandarino può essere davvero un brand di internazionalità della vostra realtà? Sono d'accordissimo, inizio a pensare che in questi anni lo stia diventando un po' di più, cioè brand del territorio, perché stanno crescendo le opportunità. Fra qualche giorno saremo in diretta su Rai 1 a raccontare il nostro territorio e certamente a raccontare anche il valore aggiunto che è il clementino di Palagiano, il mandarino di Palagiano. Per rispondere un po' alla tua domanda, cioè in che modo possiamo superare questa lentezza, ecco, accelerare questa lentezza? Beh, io penso che la risposta sia evitare che gli agricoltori, gli agrumicoltori di Palagiano aspettino risposte. Cioè le risposte sono nella loro stessa produzione. Io penso che per anni si sia atteso che la politica facesse miracoli. La politica non può fare miracoli, la politica può, ripeto, offrire delle opportunità, ma se non si crea quell'asse di collaborazione, di intesa, anche di investimenti per migliorare un percorso, allora probabilmente resteremo fermi al palo. Se invece, come si sta iniziando a percepire, si innescano quei meccanismi di intesa, di collaborazione, di aggregazione, di confronto, allora sono convinto che il nostro prodotto è eccellente, di per sé eccellente, anche se non riesce a rispondere alla domanda nazionale ed internazionale. Ecco perché veniamo travolti dalle produzioni estere e il Clementino di Palagiano è un'eccellenza tra le eccellenze, per cui deve emergere anche come valore economico, commerciale, proprio perché è una eccellenza. Ma da sola non può bastare la produzione palagianese a soddisfare le nostre richieste internazionali. Ecco, quella è la strada. Io credo che la strada sia continuare a valorizzare il prodotto con tutto quello che può valorizzarlo, il marketing, i marchi, ma soprattutto la collaborazione tra i produttori. Bene, chiusa questa parentesi, questa digressione sul Clementino, sul mandarino palagianese, che dire, Sindaco, concludiamo la nostra chiacchierata con un invito a godere insieme di questa estate palagianese. È molto ricca, diciamo, l'offerta dei comuni della provincia, ma è bene, come dire, cerchiare sul calendario la data di certi eventi che si terranno a Palagiano perché ne vale davvero la pena. Beh, mi verrebbe da promuovere il canale di condivisione degli appuntamenti. Noi abbiamo i nostri appuntamenti sulla pagina Facebook di La Signa Sindaco, dove spesso interloquiamo con i nostri internauti, per cui basterà mettere un like sulla pagina e ricevere gli appuntamenti diretti. E sì, cerchiare gli appuntamenti, magari quelli più ritenuti, più rilevanti rispetto alle proprie passioni, alle proprie tendenze, ma sarà bello incontrarsi a Palagiano. Noi abbiamo aumentato anche gli spazi d'incontro, appunto con le piazze, con le nuove vie, con i nuovi luoghi. L'idea dell'agorà. Esatto, esatto. Abbiamo voluto lavorare a quello. Abbiamo creato tante piccole agorà. Anche tematiche proprio. Assolutamente tematiche ed è sempre bello ricevere conforto in questo senso, cioè basta andare alla piazzetta degli adolescenti, come l'abbiamo chiamata noi, quella con la pista da skate, e ti ritrovi ogni pomeriggio, ogni sera, dei ragazzi che sono lì sui prati. Insomma, è una situazione bella, è una situazione che viviamo anche con entusiasmo e stupore, per cui sarà un piacere ospitare gli amici che ci seguono a Palagiano, anche per una sola sera lungo il calendario, e sarà bello incontrarsi. Grazie.